ciao ragazzi oggi è la ragione che è la frega la frega mi ha portato là lo che sei? allora ragazzi lo mi porta via dai che fai dai che fai dai che fai mi ha portato 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 ciao eccovi scusate come abbiamo qua? è una signora con la faccia brutta e il nodo ho già portato stai sono dolcetti di pgmx valkor con sorpresa ecco ci sono guardo si valkor chi comincia? una volta dai si muore cosa c'è? e fai vedere cosa c'è? la plastilina dai c'è maschimello di gufetto che schifo dove? e poi maschimello come si chiama? le pelline le apriamo dopo prima apriamo i tuoi i tuoi lemoni lemoni ha già che gufetto dopo le apriamo intanto lasciare lì e vediamo nel mio cosa c'è cat boy cat boy cat boy ah gatto boy è un gatto scusatemi non sei inglese e sta roba non si apre non la sai aprire ah bisognava tirare vediamo la sorpresa la sorpresa la sorpresa paramella italiana ah ah si muore già perché è tua eh paramella marxamello 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 e orxamello dov'è? marxamello e plastalana uh c'è la plastilina guarda la plastilina questa è verde eh no ma questa è mia e l'altra è tua no hai cambiato? mappa�� mamma beh mi hai specializzato una gamba guarda lì allora lascia Maya ho mio mashamello Romeo e la shnd Stephan guarda è al mio soldi ho colato i canned 보ola mappa il marshmallow cipponello ovviamentehold il cioccolata e poi Cl principi vedi? sono tutte mistiate non è che non c'è quella cosa eh no sono uscite due verdi tu e quella verde e tu quella blu no io quella blu no è perchè ti ho preso da lui non imbrogliate abbiamo scoppiato cosa ci rimane da fare vediamo se abbiamo pensato queste baballine baballine una volta baballine una volta soldini vediamo è basso non ce l'ho detto altro vabbè ma io se non li vuoi eh no è pieno di scotch no è che mi sono incollato lo scotch baballine non so niente no ma cosa si è di qua soldini sono tutti miei soldini se non li volete grazie io non mi ricordo e non tra dammi dammi guarda facciamo così dammi dammi io ho due soldini cominciamo a mandare? io ho tre sì allora noi vi auguriamo buona epifania quindi buona setta della befana un bacione vi piaceremo ciao a tutti i miei bambini mettete mi piace ciao ciao cos'abbiamo oggi qua? ciao bambini no, anche abbiamo un gioco della mitama, creangolo la lavagna magica come si fa con le mani? 3, 2 allora si, si si, si fa così ma se non mi interessa il mio gioco ci lo fa da sola allora vediamo, cominciamo ad aprirlo guardate quante cose abbiamo allora, abbiamo la nostra lavagnetta un po' di tosse abbiamo tanti disegni da fare aspetta, apriamo la cosa una volta abbiamo disegni, avanti io voglio fare lo squalo vuoi fare lo squalo? c'è lo squalo, ci sono i pesci guarda l'astronauta con una mitela spaziale c'è anche papà natale con la renna salverello ma a posto ho capito come funziona i dinosauri se io questa qua la metto per gusto esatto dopo ci disegni sopra ma sai con che cosa? no? con dei pennarelli normali questi spezzali pennarelli per colorare sul vetro e questi ci fai colorare su qualunque vetro anche quello della mattina questi sono te li belli uno per te, uno per te aiuto! vedo un verde no? perché noi chiusiamo dopo dai, mettili via e poi senti questo proiettore che fa la luce che vero diremo dopo dopo ci possiamo vedere un magnifico effetto 3D quindi rimanete con noi quale coloriamo? andiamo a sparo aspetta però con una poca Simone metti qua in mezzo passiamo un po' e un po' vai ok aspetta però devi seguire lui lo devi fare così ti aiuta per i contrasti anche qua ho anche l'inverno che ti spiega tutto quanto e qua invece opla ti dice i contrasti la profondità come fai l'affetto 3D ti spiega un sacco di cose ma quale è il colore che si vede più forte esatto allora aspetta lui però è lui che te lo consiglia vedi? non so di patrizia cominciamo a farlo noi facciamolo qua no? con tutti i pesciodini dai mettiamo un po' vedi esiste è sfumato passiamo tutte le linee mi fate far da sola? è è è è è è ecco vai ah no muove muove si sposa tutto il segno direi che la nostra opera adesso è completa giusto? posso vedere? tada molto carino no? molto 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 allora allora come funziona? allora come funziona secondo voi? allora questo qua te lo metti qui dentro esatto lo incastriamo poi bisogna neanche spavere le luci di correttare la magia esatto proviamo? si guardate che stupendo effetto ma che c'è il cuore? infatti siamo anche di mangio a me vedere però uh tieni giù la tua paura sapete un'altra parte bellissima di questa lavagna che la volta che fate i disegni vi possiamo cancellare con la sua pestolina guardate e viene subito via vedete? no cancella una di queste cose vai anche io cancello cancello tutto però si vede così ok perfetto vai questo pezzettino qui e in più sapete che cosa? questa è diventa una torcia la sera la potete usare quando volete andare a prendere un minchier d'acqua è tutto muio e vi fa luce la potete mettere sul pomodino al posto di una lampadina la mitama si veniva proprio di tutto quindi mi raccomando volete un bel gioco in giro attivo per giocare con il fratellino con l'amichetta prendete la lavagna 3D della mitama creangolo al prossimo esperimento ciao bambini ciao bambini Grazie a tutti.